Allora, è scattata l'ora solare, buongiorno, mettetevi comodi, comodi, grazie innanzitutto di farci entrare sempre nelle vostre case o dovunque voi ci stiate seguendo. Sapete quel concetto di fermarci un attimo per prendere una boccata di aria buona, per respirare? E respirare significa anche pensare, ma io vorrei fare un cambio totale della mia vita per realizzare qualcosa che sarà ancora più importante di quello che ho fatto sinora. Bene, ci sono persone che ci riescono e ci riescono molto bene, io sto facendo la vita che voglio, sto facendo esattamente quello che volevo e se la risposta è no, è badata e se è difficile poi riuscire a cambiare tutto, beh, c'è chi ci riesce con estrema testardaggine sarda, ma di questo parleremo tra poco, il nome? Maria Francesca Serra, eletta, eletta, silenzio in aula signori. Da pochissimi giorni, responsabile nazionale di Coldiretti Donne Impresa, dopo essere già stata responsabile della Coldiretti Donne Impresa di Oristano. Complimenti, complimenti e ancora applausi. Allora, rappresentare le donne dell'agricoltura italiana, Coldiretti, donna, che significa? Significa tantissimo, perché è un lavoro che solitamente è considerato per di più maschile, ma invece le campagne sono popolate da tantissimi imprenditrici, con tantissime realtà che sono importanti, che si differenziano per la multifunzialità, per tantissime cose. Ed essere una donna Coldiretti è un orgoglio, grazie anche a questa opportunità che mi è stata data, sono veramente felice di poter lavorare con tutte le imprenditrici d'Italia per portare avanti e favorire così il ruolo della donna in agricoltura. Maria Francesca è una forza della natura. Io ho parlato di testardaggine sarda perché le persone testarde sono meravigliose, le persone che si mettono un'idea in testa sono meravigliose e poi per una forma di amore verso la tua terra, verso la vostra terra, che è una terra complessa, difficile, dove niente ti viene regalato dalla natura, però la natura ha regalato a tutti voi, ai sardi, questa tenacia, questa forza, questa forza. Un bel carattere forte. Un bel carattere forte. Sarà che si chiama Maria Francesca Tutto Attaccato? Già. E adesso vi raccontiamo tutta quanta la storia perché sì, tu non ne hai responsabilità, peraltro è un nome meraviglioso, ma come andò? Allora, io per i nove mesi della gravidanza di mia mamma ero Valentina per tutti, quindi quando sono nata anche nel mio braccialetto c'era scritto il nome di Valentina. C'è da fare una piccola parentesi, mia madre era impiegata all'anagrafe del comune di Usellus, e qua vediamo una foto il giorno che sono nata io, e quindi aveva preso la maternità per potermi seguire. Mio padre, tranquilla, rimani a casa, ci penso io. E quindi è andata nel suo stesso ufficio e mi ha registrato con il nome di Maria Francesca Tutto Attaccato, prendendo il nome Francesco dal mio nonno paterno, ovvero suo padre, e poi è rientrato a casa e c'è stato chiaramente il delirio. Per quanti giorni non si sono parlati? Più di un mese e mezzo da quanto mi è stato raccontato. Io giorni ero stata, ero stata anche un po' così, mi ero fermata i giorni, e poi è andato va bene, è andato bene per tutti insomma. Sì, infatti io ridendo e scherzando quando mi dicono ma tu fai questo, ma tu fai quell'altro, io sono bipolare e c'è anche una motivazione, date le colpe a mio padre. Da Valentina Maria Francesca? Da Valentina Maria Francesca è tutt'altra storia, quindi se ho anche due, tre, quattro, cinque personalità e anche per questo motivo... Questa donna meravigliosa è ingegnere edile architetto con master a Vienna, anche questo voglio dire, perché passare da questo alla guida dell'allevamento biologico di ovini a Usellus, nel cuore dell'alta marmilla oristano, sembro una... non riesco a dire le cose, e voglio dire, è essere stata la ragazza che sei stata, la studentessa che sei stata, hai fatto un'esperienza di lavoro attraverso il tuo lavoro in Giappone. E poi questo ritorno alla tua terra, com'è avvenuto? Dobbiamo fare un passaggio indietro. Io abito a Usellus sino all'età di dieci anni, sino a quando purtroppo viene a mancare mia madre, e da quel momento io vengo allontanata dalle mie origini e mi trasferisco a Cagliari. Ci sono diversi anni in collegio, perché mio padre aveva già l'attività, un'azienda agricola che comunque fa parte della nostra tradizione familiare, quindi non poteva badare a me e mio fratello, e quindi noi entrambi veniamo allontanati da Usellus, perché chiaramente non c'era la possibilità di poter essere seguiti nella nostra tenera età. Non con cattiveria, ci mancherebbe allontanati perché... Esigenze... E' il più importante di tutti, con ottima pace dei papà, che è la mamma, no? Sì, esatto. Quindi io mi allontano da Usellus, proseguo i miei studi a Cagliari, poi il master all'università di Vienna. Siena? Oddio. Dove va? Se era Siena, insomma... No, no, era Vienna. Era Vienna, comunque anche Siena è bella, eh? Sadovatelo, nel senso che... Non è che sia stata un'età, chissà che cosa. Perdonatemi, è una delle... la mia primissima esperienza, forse gioca tantissimo l'emozione. Questo ci onora molto. Vienna, Austria. Vienna, Austria, Strauss. Poi Giappone. Poi anche, sì, Giappone, Roma con un altro master. Il mio percorso formativo, comunque, è costellato da più corsi, chiaramente, riguardanti l'ingegneria e l'architettura, sino a quando, purtroppo, le condizioni di salute di mio padre si aggravano. In un momento un po' particolare, quando lui era in ospedale, si era pensato di diminuire il carico di lavoro o persino di dover vendere. Perché, diciamo che mio padre era... ed è ancora la... Il punto, il cuore dell'azienda, perché se ne è sempre occupato lui, perché lui lo ha fatto per 60 anni, solo che non c'erano le condizioni di salute per cui potesse continuare. E quando io, in questo dibattito, un po' anche acceso nei toni, ho sentito dire, no, vendiamo almeno questo, teniamo l'allevamento bovino, o comunque cerchiamo di trasformare l'azienda, io ho detto immediatamente no. Mi è stato detto, come no? Ho detto, ci vado io. Ho detto, come ci vai tu? Sei donna, sei un ingegnere, sei sempre su un aereo, non sei mai qua? Perché comunque io, anche se non partecipavo H24 a tutta l'attività aziendale, comunque, quando io ero ad Usellus, comunque, mi occupavo dell'azienda. Quindi cercavo di conciliare le due professioni, sia quello da ingegnere che quello da imprenditrice. Sino a quando poi ho deciso, con una scelta molto ponderata, ma anche di cuore, di tornare alle mie origini, quindi alla mia terra, e di non permettere che la nostra tradizione terminasse con mio padre, perché non l'avrei mai permesso per tutto il sacrificio e il lavoro che ha dedicato per l'azienda. Ora, noi ci fermiamo solo per un attimo. Quanti di voi, in questo momento, hanno voglia di avvicinarsi, alzare la frangia di questa Maria Francesca e darle un bacio in fronte? Vi aspettiamo qui in studio l'ora solare. Grazie. Tra poco. Abbiamo l'onore di avere in studio con noi eletta pochi giorni fa Maria Francesca Serra, neo eletta responsabile nazionale col diretti Donne Impresa. Ingegneria edile, architettura, giramondo, Giappone, Austria, ovunque, e decide ad un certo punto, perché il suo papà non sta bene, che la terra e la vostra terra e i vostri animali siano la cosa più importante da gestire. Ora, mi faccia un attimo così, ecco, guardate, no, no, le mie, le sue, per carità, e guardate queste belle mani, queste belle unghie, il papà, che intanto che noi abbracciamo, ma sarà un po' acciaccato tutto quello che vuoi, però dice, come fai a occuparti di terra con quelle mani? Come fai a mungere con tutte quelle unghie, con tutti quei capelli, con il tuo stile di vita che hai vissuto sino adesso? Come fai a trasferirti dalle grandi città e tornare in un paese come Usellus, che comunque è una piccola realtà, siamo 700 abitanti. Quindi da Tokyo, da Vienna, Usellus. E tu gli dici, papà, io sono sarda, gliel'hai risposto? No, no, io gli ho detto, guarda che sono figlia tua. Ecco, beh, il senso era questo. Già dovrebbe, ha detto, infatti alcune volte mi dice, ma hai degli orari assurdi, esci alle 4 del mattino, rientri alle 10 di notte. Gli ho detto, guarda che sino all'altro giorno l'hai fatto anche tu. E gli ho detto, quindi cosa vieni a dire cosa a me? Il fatto di essere donna... Per lui è una grande, diciamo, potrebbe essere un grande ostacolo, perché comunque l'ambiente agropastorale ha quella connotazione molto maschile. però io da responsabile provinciale di Oristano vi posso confermare che ci sono tantissime donne, tantissime aziende che fanno quello che faccio io, non sono la sola. Ce ne sono tantissime e hanno anche tantissimo successo perché si impegnano con dedizione, passione e coraggio nella loro attività. solo che veniamo un po' tratteggiate, un po' come il sesso debole. Magari, sì, lavorare in agricoltura, però magari con le pecore, non è ancora, diciamo, nell'immagine culturale delle persone. E' per questo che servono i cambiamenti e servono le persone speciali. Sta facendo... Voglio dire, sono qua, c'è mua, c'è mua. Ci credo fermamente, ci credo fermamente. Ci credi e lo fai, e lo fai. E l'otto ogni giorno. Io quando sei entrata... Adesso poi arriviamo anche... Esistono anche cavalli che si credono cani. Esiste nell'alzarsi alle 4 del mattino anche la soddisfazione di vedersi amati da questi... San Francesco, no? Amati da queste creature. Però io voglio soffermarmi su un'altra cosa. Lo faccio in punta di piedi. Io ti ho detto che capelli meravigliosi. Che bella questa treccia. Bella, piena, che tu hai. E tu mi hai detto? Che tengo i capelli lunghi perché una volta l'anno che ricade intorno al periodo di Natale io taglio l'incirca dai 45-50 centimetri perché poi dono la mia treccia per le malatte oncologiche per permettere loro di realizzare delle parrucche. E visto che la natura mi ha fornito di tanti capelli perché non aiutare. visto che comunque mia madre è mancata per un tumore quando ero molto piccola quindi essendo molto piccola non ho potuto fare molto. Forse non me ne sono neanche resa conto. E da quando ho potuto perché per un periodo li ho tenuti anche corti lo faccio ogni anno. Tu sei una che fa. Sì, anche troppo. Tu sei una che fa. Voce del verbo fare. Chi perde la mamma ha dieci anni e non ho potuto fare abbastanza a questo io non credo. Lo rispetto, ma non credo. Non ha poi più paura di nulla, no? Paura nel senso proprio paura. Sì, io affronto da tenere età le sfide della vita che la vita mi propone. Sinceramente anche nei momenti magari un po' più bui penso sempre ma se io, tra virgolette, ho superato perché comunque è una mancanza che ti rimane per sempre. La prima cosa che penso la mattina è l'ultima prima di andare a dormire. Perdonate per la voce che è un po'. E' la mia unica debolezza. E quindi quando dico ho superato tante, tante sfide vivo senza una mamma. Mi è mancata nei momenti fondamentali della mia vita. Non sarà di certo l'opinione pubblica di quello che sto facendo adesso a spaventarmi perché magari qualcuno dice ma tu sei un ingegnere e non dovresti stare qui. non dovresti stare qui oppure ma cosa ci fai qua con le tue capacità, le tue esperienze, la tua intelligenza comunque sei sprecata per stare qui in azienda. E anche mio padre mi dice io ho lavorato sodo, mi sono sacrificato per i tuoi studi e tu anziché allontanarti da qui in un mondo magari un po' più tranquillo con meno sacrificio invece sei voluta tornare. Io non avrei mai permesso che niente a nessuno di vanificare tutto il lavoro che lui ha portato avanti per questi 60 anni. Francesca, tu lo senti il silenzio in studio? Sì, lo sento. Questo si dedica solo alle persone speciali, sai? Grazie. Alle persone molto speciali come te. Sapete chi ha capito tutto? Attenzione, l'ha capito il papà. L'hanno capito tutte le persone che vogliono bene e che amano Maria Francesca. Ha capito tutto Camilla. Camilla è un cavallo che diventa cane scordandosi di essere un cavallo quando la sua padrona rientra a casa perché le va incontro come se fosse un cagnolino. Sì, io quando mi dicono ma com'è Camilla? Gli ho detto guarda, è una specie di... è un cane alto. Come un cane alto? Gli ho detto sì, è presente che i cani ti leccano o ti vengono a baciare. Ecco, io quando prima di tornare a casa quando finisco in azienda passo da lei e non so perché evidentemente le piace la profumazione della mia treccia dei miei capelli mi prende per ciupa ciupa. Lei per me è un cavallo io per lei sono un ciupa ciupa perché incomincia a leccarmi ed è di una tenerezza unica. Ed è la prima intervista di Maria Francesca Serra. Prometto bene. Immaginate alla centesima intervista non ce ne sarà più per nessuno. Splenda ragazza meravigliosa meravigliosa donna. Grazie, grazie, grazie. Allora, noi andiamo anzi andato il nostro Matteo Forino a presentarvi Diamante Santini un po' Indiana Jones un po' no perché? Guardate. Ci troviamo a Villa di Saturnana una piccola borgatina sulle colline di Pistoia e siamo all'azienda agricola Ninfio di Posco la mia azienda agricola che gestisco insieme all'aiuto e al supporto dei miei genitori e di mia sorella. Fin da piccola il mio sogno era di studiare archeologia e così è stato e nel 2021 ho conseguito la laurea magistrale in archeologia all'Università di Firenze però poi la vita spesso ci riserva alcune sorprese e strada facendo ho scoperto di avere un'altra grande passione. Mio babbo mi ha regalato due caprette da compagnia quindi come hobby e da lì ho imparato a conoscere quest'animale e me ne sono completamente innamorata e ho pensato magari può diventare anche un lavoro. Ho iniziato sempre con il costante supporto della famiglia a elaborare un progetto un progetto di vita nel quale principalmente occuparsi di allevamento di cape in questo caso razza camosciata dal latte e fondarci una piccola attività da due caprette originarie siamo arrivate a una consistenza di circa 70 capi adulti Le capre sono animali meravigliosi purtroppo molto spesso sottovalutate però sono molto intelligenti e affettive e amano molto il contatto con le persone È una passione sicuramente ma non bisogna dimenticare che è un lavoro a tutti gli effetti la giornata tipo è sveglia alle 6 prima mungitura poi si corre subito in casa e fice a trasformare il latte a sera c'è la seconda mungitura Un'altra mia passione grandissima sono gli asini loro non hanno un ruolo lavorativo nella nella fattoria però fanno tanta compagnia Questo è il senso della nostra puntata di oggi no? Ero partito da un'idea l'ho perseguita e poi la vita mi ha portato a fare altro ha fatto un viaggio lungo ha fatto un viaggio lungo stasera ritorna a casa e noi gliene siamo tanto tanto grati allora l'ingegner Matteo Marini ben trovato grazie che ha portato il motivo del cambio vita non è solo un cambio vita allora laurea magistrale in ingegneria meccanica dico bene e ad un certo punto dice c'è un'azienda di famiglia c'è una malga non la possiamo perdere e qua smetto di parlare io ci diamo del tu posso dare del tu ad un ingegnere sì e allora che cosa hai deciso di fare? Sì ciao a tutti grazie per l'invito ho deciso di salvaguardare una storia molto importante della mia famiglia iniziata da mio nonno Tarquinio ancora 50 anni fa ho iniziato ad andare su in malga intanto dove siamo? ad Asiago Asiago la malga si chiama malga addosso di sotto le malghe di solito sono comunali e quindi hanno un bando pubblico che va di sei anni sei anni quest'anno nel 2022 c'era il rinnovo della malga quindi l'anno scorso esatto sono cambiate un po' di regole serviva un giovane in azienda l'azienda è gestita da mio papà Ugo e mio zio Raffaele solo che loro hanno un'età maggiore dei 40 e serviva un ragazzo sotto i 40 anni perfetto e uno dice tanto che vado cercando un ragazzo sotto i 40 anni cerchiamolo in famiglia esatto però tu non volevi fare l'ingegnere? io volevo fare l'ingegnere e lo faccio tuttora quando riesco però dovevo salvaguardare l'azienda di famiglia l'azienda di famiglia che ha una storia bellissima secondo me che storia è? la storia è che mio nonno con il fervore e la voglia di andare in Malga perché è una cosa che ha una passione che ha acquisito andando in Svizzera dopo dopo la guerra è una cosa che ha voluto fortemente iniziando da una vacca che ha preso negli anni 60 e ha cominciato quindi nel 74 ad salire in Malga e a perseguire questa cosa di fare il formaggio e all'epoca diciamo che non c'erano tutti i comfort che ci sono adesso e quindi era proprio una passione che l'ha spinto e durante gli anni ha avuto l'onore di conoscere Mario Rigoni Sterna e Dermanno Olmi e qua io sarei costretta ad alzarmi in piedi ma non lo posso fare se no esco dall'inquadratura insomma amicizie speciali esatto intanto amicizie vere erano due uomini autentici anzi tre con il nonno esatto con il nonno cioè persone si trovavano a pranzare guardate che meraviglia che meraviglia queste foto scusate ma questo è entusiasmo personale e non solo andiamo loro si trovavano a pranzo mi correva un bicchiere di vino un po' di formaggio questo qui e le tagliatelle a burro che venivano amati è ora di pranzo esatto siamo qui e niente si raccontavano un po' di storie un po' di storie vissute persone semplicissime però che avevano uno spirito di amicizie e quant'altro che era fuori dal normale non avevano bisogno di 20.000 parole ne bastavano 2.000 ma erano quelle esatto quelle giuste e ci ha portato questo libro che io tocco con molta attenzione Mario Rigoni Stern Inverni lontani e c'è questa dedica fatta con fatta con l'amore di un uomo che aveva fatto la storia e ha avuto la forza di saperla raccontare tornando a casa grande amore per questo amico per questo suo nonno amico amico sincero poi sarà Rigoni Stern a portare Ermanno Ulmi esatto da voi esatto sì 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 Rigoni Stern l'ho conosciuto negli anni 80 all'incirca e poi verso gli anni 2000 siccome Rigoni Stern Ermanno Ulmi aveva comprato casa vicino a Rigoni Stern cominciarono a venire in Malga tutti e due e da lì diciamo è nata una bella amicizia e poi che si è sviluppata anche con mio papà infatti mio papà aveva anche l'onore anche negli ultimi istanti diciamo prima che scomparisse Ermanno Ulmi di poter andare a casa portargli del formaggio stare con la famiglia insomma anche dei bei ricordi per mio papà intanto grazie di condividerli con noi perché credimi è un grandissimo regalo grandissimo regalo noi abbiamo scoperto che alla Malga addosso di sotto il maestro Ermanno Ulmi ha girato alcune scene di un film il suo ultimo film Torneranno i Prati vi prego se siete tra le poche persone a non aver visto questo film di Ermanno Ulmi guardatelo amatelo profondamente e pensate che quei luoghi sono sono i luoghi di casa vostra della mia infanzia della tua infanzia che meraviglia Matteo allora salgo in Malga questa immagine che vedete che è un'immagine che fa pensare che se uno per tutta la vita si sia comportato bene poi dall'altra parte troverà ciò non deve però far dimenticare che questa bellezza costi una una fatica e un metodo è questo Mattia tu mi dicevi noi saliamo in Malga a un certo punto dell'anno esatto da giugno a settembre dobbiamo fare almeno 100 giorni in base al contratto della Malga i primi mesi almeno i primi due mesi sono abbastanza duri perché la sveglia è alle 4 si comincia alle 4 si radunano le vacche si va a mungere appena monto si torna in Malga diciamo a fare il formaggio facciamo il formaggio ancora come si faceva una volta come lo faceva ancora mio nonno quindi non abbiamo macchinari per fare il formaggio è tutto a mano abbiamo il fuoco a legna quindi non abbiamo quindi c'è oltre al discorso formaggio c'è anche da recuperare il legname nel bosco tagliarlo metterlo via non tagliando gli alberi che non vanno tagliati no gli alberi vengono segnati dalle guardie dai forestali quindi si si non abbattiamo alberi e non c'è mai un lo so tu dici l'ho fatto per salvare il questo patrimonio di vita famiglia e cultura non c'è mai un momento in cui tu dici che fatica no? ha stabilito che tu fai anche altro ma esatto è più per le soddisfazioni che dà questa cosa per mio papà innanzitutto perché comunque lui è in pensione però continua a fare questo lavoro mio zio che anche lui è l'anima diciamo dell'azienda e io lo faccio per loro per loro e per la famiglia perché mio nonno tra l'altro ha avuto anche dieci figli quindi ci sono anche altri otto fratelli a cui tiene particolarmente e non volevo perdere questa cosa senti ingegnere bravissimo ragazzo tu hai un po' il cielo della tua malga ce l'hai negli occhi cioè questi occhi belli puliti però immaginatevi un bambino che va a raccogliere funghi e che si trova davanti un signore che in maniera insomma come andò l'incontro con quello che tu non sapevi essere Mario Rigoni esterna sì allora la mia passione erano cioè sono i funghi tuttora anche se non mi piace come i formaggi in realtà a me non piace tu non mangi questo formaggio no no neanche il mio papà in realtà lo assaggia ma non non dirlo col tono così lo assaggia è una delle cose migliori al mondo lo so però noi magari voi siamo stufi di vederlo non so comunque ero andato a funghi non si offenda non si offenda ecco andiamo ero andato a funghi nella via di ritorno trovo questo signore con sua moglie che mi chiama lì a rapporto che tu non conoscevi più o meno avevo otto anni per cui ah otto anni sì per cui di solito siccome avevo anche un po' paura dei forestali eccetera da bingo eccetera stavo un po' alla larga cioè ho evitato di andare l'incontro e lui invece mi continuava a chiamare insistentemente per vedere i funghi che avevo nel cesto allora io sono arrivato lì gli ho fatto vedere e lui ha preso in mano quello più grande e fa guarda che bella brisa per me non era una brisa perché aveva la spugna bianca sotto perché noi intendiamo brisa come quelli che hanno la spugna gialla mentre io porcino intendo quelli che hanno la spugna bianca siccome aveva la spugna grande però era aperto a cappello per lui era una brisa e per me c'era un porcino ho detto vabbè torno giù vado in maica vado a mia mamma che gli faccio le faccio a mia mamma ma chi era il signore che non sapeva di funghi che mi ha detto che era una brisa al posto di un porcino Matteo guarda quello era a Rigoni Stern era venuto a trovare il nonno ok però insomma per me è un porcino ma ecco e avevi ragione tu? per me sì per lui sì per cui Matteo Marini grazie grazie infinite di aver fatto questo lungo viaggio la malga addosso di sotto forse chi lavora tanto lavora tutti i giorni a parte che è una questione anche di gusto può anche non volerlo mangiare però voglio dire e soprattutto ribadiamo ancora una volta un ingegnere che per salvare un bene di famiglia dice invece di avere il 100% del tempo tutto per me io mi impegno a lavorare con voi ma tu lo fai bene il formaggio? io devo imparare a farlo bene però sui funghi non ti batte nessuno? è lì difficile è difficile è stato difficile anche per Rigoni Stern che portò parte di questo formaggio fu lui a portarlo al presidente della Repubblica? Ermanno Olmi che doveva ricordare che appunto quando vinse il Leone d'Oro nel 2008 alla carriera decise di chiamare mio nonno e venire a festeggiare direttamente lì da Venezia venire direttamente in Malga a festeggiare queste tagliatelle al burro signori lo so è ora di pranzo ma abbiamo voluto portarvi un decisamento una boccata di aria fresca e buona all'ora solare ci fermiamo soltanto per un attimo Matteo ritorna alla sua Malga ma noi lo ringraziamo tantissimo per il tempo che ha speso qui con noi grazie 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 dunque questo è il momento in cui il pubblico dell'ora solare e il pubblico di tv 2000 questo lo sappiamo si stringe intorno all'argomento che noi raccontiamo che noi narriamo abbiamo bisogno di tutta la vostra attenzione di tutto il vostro cuore la fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli è già questa è una grande apertura si dedica da 50 anni alla ricerca e oggi attraverso una campagna molto particolare della quale vi vogliamo parlare si dedica ai lasciti testamentari che possono cambiare la storia di tanta ricerca noi possiamo attraverso un lascito testamentario dare un contributo fondamentale importantissimo carta e penna ma tanto vi facciamo vedere questo numero anche più avanti 06301582820630158282 oppure andate su lasciti testamentari tutto attaccato punto policlinico gemelli tutto attaccato punto it per le persone un po' più grandi che magari non stanno sempre a computer ci pensano i vostri nipoti io saluto e ringrazio Monsignor Claudio Giulio Dori grazie per essere con noi grazie membro del CDA della fondazione gemelli assistente ecclesiastico generale dell'università cattolica e di azione cattolica eccellenza grazie di essere con noi è il direttore di oncologia pediatrica al policlinico gemelli e presidente della fondazione per l'oncologia pediatrica Antonio Ruggero grazie grazie allora Monsignor Giulio Dori io in questi casi chiamo a raccolta il nostro pubblico perché so che ci sono persone generose persone che che hanno solo bisogno che gli si spieghi che cosa voglia dire da un punto di vista di spirito pensare di lasciare quello che noi abbiamo ad altri che ufficialmente non conosciamo però quanto è importante tutto questo è importante perché la sanità è una dimensione che attraversa la vita di tutti prima o poi e tutti abbiamo sperimentato quanto è importante avere strutture accoglienti strutture all'avanguardia professionisti preparati e c'è un sistema all'avanguardia nel nostro paese tutti lo sappiamo ma anche la medicina fa progressi costanti e quindi è necessario disporre delle maggiori risorse possibili e non bastano mai per questo c'è questa modalità credo in parte nuova o comunque diciamo maggiormente condivisa Papa Francesco ha scritto la fratelli tutti abbiamo bisogno nel mondo di recuperare una dimensione di fraternità e un ambito in cui questo diventa particolarmente urgente ma anche possibile è quello di pensare a ciò di cui disponiamo che a volte è anche qualcosa che abbiamo ricevuto qualcosa che abbiamo accresciuto come patrimonio ma finalizzarlo a qualche cosa che possa davvero andare incontro a delle necessità fondamentali come è l'ambito della salute e quindi chi ha la possibilità ecco invitiamo a pensare anche in questa prospettiva qualcosa che abbiamo ricevuto perché è chiaro che se uno vuole lasciare tutto quello che ha se una persona che vuole lasciare tutto quello che ha possa farlo ma si possono lasciare anche cose che ci appartengono e che possano avere un valore importante che domani diventa salvezza per dei bambini che domani diventa salvezza per altre persone questo è fondamentale perché se pensiamo alla ricerca nell'ambito dell'oncologia pediatrica quello che è successo nei decenni abbiamo assistito a un cambiamento delle possibilità di cure di questi bambini se oggi l'80% dei bambini guarisce dal proprio tumore è grazie alla ricerca una ricerca però che richiede tempo ha bisogno anche di risorse e quindi la generosità di singoli di istituzioni o di famiglie è fondamentale per far sì che ancora di più possiamo ottenere migliori tassi di guarigione e quindi far sì che tutti questi bambini possano ricevere le cure appropriate per guarirli dal loro tumore un lascito testamentario come funziona? può essere effettuato ovviamente da qualsiasi persona il nostro ospedale si è dotato di una struttura che può accogliere ma soprattutto può gestire anche quelli che sono talvolta delle fasi e dei processi complessi semplificandoli e quindi permettendo che questo si possa realizzare quindi è sufficiente la volontà di qualcuno a poter fare appunto un lascito noi siamo intanto scusate 06 3015 8282 da dove voi chiamando avrete tutte le informazioni necessarie cioè è una telefonata che viene fatta per prendere informazioni e per cominciare ad avvicinarsi a questo a questa logica che è così logica a questa logica che parte dal cuore lasciti testamentari punto poliglinico gemelli punto tutto attaccato punto it scusate per convincervi per farvi conoscere ancora più da vicino quanto valore abbia tutto ciò di cui stiamo parlando c'è la storia di una bambina e provate a immaginare di averle lasciato voi qualcosa e guardate insieme a noi Eva è una bambina allegrissima una bambina fantastica un giorno è comparsa la febbre inizialmente 37,5 piano piano si alzava però non scendeva e la bambina stava sempre peggio ci siamo recati a pronto soccorso a Viterbo le analisi erano molto basse quindi i colleri di soccorso ci hanno mandato al gemelli è entrata in terapia intensiva non si sapeva nemmeno se ce l'avrebbe fatta perché comunque era molto grave e da lì hanno scoperto che Eva era affetta da LLA ha iniziato con l'echemia trasfusione del sangue è tutto tutto percorso il 20 dicembre del 2020 Eva ha finito la terapia i medici del gemelli sono stati tra i migliori medici che potevamo incontrare perché mi hanno salvato la figlia è fondamentale la ricerca per noi penso per tutti perché altrimenti mia figlia non si sarebbe salvata come mia figlia così anche altri bambini signor Girodori basta pensare che questa bambina sia nostra nipote nostra figlia e che qualcuno abbia lasciato qualcosa per lei credo che la sovrapposizione sia immediata no? quanto lo ringrazieremmo questo donatore? assolutamente sì credo che il cuore dell'uomo porta in sé un desiderio che dà senso a tutta la vita che è quello di prolungare il bene che portiamo nel cuore a volte è soffocato da tante vicende della vita ma il cuore dell'uomo è un cuore grande è un cuore generoso è un cuore aperto allora ci sono dei momenti della vita in cui dobbiamo prendere decisioni e normalmente cerchiamo il meglio per noi per le persone care ecco allora pensare al domani a ciò che viene dopo anche la nostra vita in termini di un investimento ulteriore cioè un investimento di bene di progresso per le persone che ne hanno maggiormente bisogno che sono più provate e il gemelli è un luogo che vive di questo vive perché tutte le persone che sono al gemelli ci mettono un di più di motivazione di generosità di intelligenza è un luogo dove la generosità moltiplica l'efficacia oggi è il più grande ospedale in Italia uno dei più importanti al mondo al 37esimo posto nel mondo ed è apprezzato per la ricerca ai primi posti per il servizio di assistenza ma soprattutto perché è un volano di generosità allora chiunque ha questa ispirazione ecco davvero è un luogo che può corrispondere ai desideri del proprio cuore quindi invitiamo davvero a fare un pensiero a continuare ad alimentare questo fiume di generosità di gratuità che nel gemelli trova un'istituzione solida ma capace di investire per il futuro diamo futuro perché basta essere centrati una volta a gemelli per capire per capire tutto questo e diamo un futuro il numero 0630158282 oppure lascititestamentari.policlinicogemelli.it diamo un futuro ai bambini perché tutto questo quando lei poco fa direttore parlava di un cambio totale le statistiche sembrano numeri freddi invece le statistiche sono fondamentali quando noi pensiamo che tempo fa tanti bambini come Eva non avrebbero avuto possibilità e invece oggi questa possibilità c'è è perché la ricerca in questa meravigliosa città ospedale università grande quanto è grande i gemelli lavora indefessamente H24 perché la ricerca cammini la ricerca cammina e deve camminare perché questo è il futuro di questi bambini se vogliamo investire nel futuro di questi bambini dobbiamo investire nella ricerca è l'unico modo che abbiamo oggi per effettivamente investire su quella che è la salute di questi bambini abbiamo un minuto un minuto della vostra attenzione per guardare insieme a noi queste immagini guardate nella mia vita sono stata tante cose un insegnante attenta una madre premurosa una donna combattiva nella mia vita sono stata fortunata per le persone che ho incontrato per quelle che mi hanno fatto ridere piangere amare nella mia vita ho insegnato compassione ai miei alunni ma sono stati i bambini malati che ho conosciuto a darmi le più importanti lezioni di vita per loro voglio lasciare un segno profondo un gesto d'amore per combattere e sconfiggere il cancro in questa vita sono stata tante cose nella prossima grazie al mio lascito sarò una ricercatrice e lotterò a fianco dei bambini malati sostieni anche tu la ricerca fai un lascito testamentario al Policlinico Gemelli e questo è allora c'è Monsignor Girodori c'è un ulteriore passo che il Gemelli fa che è non lasciare soli i genitori le famiglie di questi bambini perché noi ovviamente stiamo parlando dei piccoli pazienti ma i pazienti hanno intorno chi soffre quanto come forse ancora più di loro comunque ecco i Gemelli e dietro tutta quest'operazione dei lasciti c'è anche il sostegno e l'aiuto per le famiglie sì attorno al Gemelli operano più di 40 associazioni nei vari ambiti nei vari settori ma soprattutto là dove ci sono bambini ci rendiamo conto che c'è una solidarietà che si struttura si organizza che risponda dei bisogni a delle esigenze perché non è solo la prova per chi deve affrontare la malattia ma è la prova di tutta la famiglia dei parenti degli amici allora si crea una rete di solidarietà ed è fondamentale quindi non si entra non si fa solo con un lascito un gesto singolo ma si alimenta un contesto un ambiente di sostegno reciproco e di solidarietà è molto importante che non si rimanga soli nel momento della sofferenza della malattia e che si possano offrire risposte più appropriate quindi sostegno alla ricerca sostegno alle reti solidali e soprattutto possibilità di intercettare le enormi possibilità dello sviluppo tecnologico perché vediamo che la ricerca e la tecnologia sono la risposta più appropriata ma il tutto sempre dentro un quadro di grande solidarietà lei lo diceva fratelli tutti no? ecco e questo si sente si avverte ancora di più tra i suoi pazienti che cosa o chi la colpisce di più? ma avere a che fare con i bambini innanzitutto e avere a che fare con un mondo particolare il bambino sorprende rispetto all'adulto l'adulto in qualche modo ha un'idea di quello che sta accadendo cosa che da volte il bambino specie quando è piccolo no anzi questo può essere da volte un motivo di preoccupazione ulteriore dei genitori però c'è quella inquietudine inquietudine o ancora di più quella spregiudicatezza anche da volte nell'accettare certi tipi di trattamento che effettivamente fa capire qual è la forza di questi bambini sono da volte i bambini che vanno a rincuorare i genitori hanno una serie di risorse incredibili danno forza anche a voi medici certamente sì perché da volte abbiamo a che fare con patologie complesse gravi sappiamo quale può essere da volte anche il rischio di non riuscire a guarire da quella patologia e questi bambini sono sicuramente come dire un tocca sana anche per il personale medico infermieristico sapete che cosa succede facendo lo 06 30 15 8282 oppure andando a cercare su lasciti testamentari sempre tutto unito .poliricogemelli.it si sostiene anche quella nobilissima categoria ed è un esercito credetemi che sono i giovani medici le persone che poi si prenderanno cura di noi io ringrazio Monsignor Giulio Dori grazie di essere stato con noi davvero grazie grazie a voi e avanti tutta direttore Ruggero ce la metteremo tutta siamo il pubblico di TV 2000 quindi sono sicura che la vostra attenzione sarà stata massima questa è l'ora solare telefonate 06 3015 8282 grazie a tutti davvero grazie grazie a tutti